Nella trasfigurazione di Cristo, Giovanni Bellini descrive l'elevarsi dal naturale al divino in una successione verticale di elementi simbolici. In basso, la natura, rappresentata dalle essenze e dalle rocce in primo piano. Al centro, l'uomo, il cui ancora forte legame con la natura è riprodotto attraverso l'aderire dei corpi all'andamento del terreno. In alto, circondate dalla luce diffusa della volta celeste, le tre figure di Cristo e dei profeti, con il loro sviluppo verticale, rappresentano il livello della pura spiritualità.